Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video questo è un altro video di esperimenti allora abbiamo bisogno di un foglio della matita è utilello e cominciamo a disegnare una casetta per la kitty club io l'ho fatto per la mia preferita joy player e poi la dobbiamo colorare ovviamente dobbiamo fare anche queste cose perché servono e poi attaccarle con le scotch ed è qui il risultato finale poi ne ho fatto anche altre per le altre video che ho cioè Lady, Mimi e Violetta sono davvero molto carine sono venute davvero bellissime ci vuole un bel po' ecco quella di Violetta che si vede solo bene lei e questa è anche questa della casa mentre questa è quella di Mimi bellissima mi è venuta questa è di Lady Princess spero non c'entrava con il cappello così l'ho dovuto togliere e poi abbiamo pure Akshayer che è stata la prima che l'ho fatta comunque questa è tutta la mia collezione che ho e comunque ciao 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 ciao